Ecco dottoressa Dei, i casi covid sono di nuovo esplosi, tante le persone che comunque effettuano il tampone e quindi il covid c'è e circola. La domanda che ci fanno molti cittadini è sui vaccini, come funzionerà da adesso in poi? La regione ci sta dando indicazioni parallele a quelle ministeriali e cioè i vaccini saranno disponibili a breve per i pazienti fragili. La fragilità è legata alle patologie, è legata all'età, è legata alla non autosufficienza. I vaccini stanno arrivando, siamo con la cabina di regia dell'azienda Toscana Sud-Est vaccinale, siamo in contatto con le indicazioni regionali, sono proprio in consegna in queste ore, in questi giorni, dopodiché saranno disponibili sia negli ambulatori degli igienisti, quindi dei nostri medici che hanno sempre vaccinato durante il covid, negli ambulatori dell'igiene non verranno chiaramente riaperti gli hub vaccinali e poi saranno presenti nelle farmacie per i medici di medicina generale e inizierà quindi la possibilità di prenotarsi sul portale della regione che in questi giorni è chiuso ma a breve riaprirà di nuovo le porte e poi andare dal medico di famiglia innanzitutto partendo dai pazienti in RSA e dagli oltre 65 anni. Fuori da queste categorie è facoltativo? Assolutamente sì, diciamo che non è obbligatorio, nemmeno in queste categorie è fortissimamente consigliato perché come una bruttissima influenza e adesso è una bruttissima influenza può avere delle conseguenze molto importanti su persone fragili. Il riferimento è il medico di famiglia per un consiglio, per chiedere comunque cosa è meglio fare rispetto alla propria condizione di salute? Beh diciamo che persone che hanno combattuto con il covid in questi quattro anni hanno già visto quando si sono vaccinati come persone fragili quindi nel momento in cui si riconoscono come tali possono tranquillamente accedere al portale regionale e prenotarsi. Se hanno dei dubbi comunque rivolgersi al medico di famiglia.